Buona giornata amici, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV. Iniziamo insieme una nuova settimana, ci avviciniamo sempre più al Natale e le notizie non cambiano di molto rispetto al passato, anche se si comincia ad avvertire sempre di più l'atmosfera natalizia e questo forse un po' ci consola. Allora, partiamo subito con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi. Oggi abbiamo un Papa, Papa Damaso. San Damaso visse ovviamente nel IV secolo, dopo il 300 d.C., spagnolo e romano d'adozione, succedette a Papa Liberio. Pensate nella sua vita, vent'anni regnò questo Papa a Roma, era arrivato a Roma giovanissimo e si era subito distinto per la sua capacità molto brillante di interpretare le cose e si era proprio innamorato delle sacre scritture. Sacre scritture che, una volta diventato Papa, commissionò a San Gerolomo di tradurre in lingua latina. Prima erano in greco, quindi per essere divulgate maggiormente furono tradotte in lingua latina. Lo stesso Damaso è noto per le sue composizioni, i cosiddetti Carmina. Molti se ne trovano ancora oggi nelle catacombe romane, dove lui esalta le virtù e le capacità dei martiri, appunto, che sono sepolti nelle catacombe. Questo è Papa Damaso. Diamo un'occhiata ora alle previsioni del tempo. Ecco, vediamo la grafica. Mi sembra di capire che oggi sulle Marche ci sarà un tempo variabile. Sole, nuvolosità al mattino, maggiore copertura nel pomeriggio. Valori massimi sui 15 e 18 gradi, per quanto riguarda le temperature, si stanno alzando la minima sugli 8 gradi. I venti sulle coste espireranno da sud, mentre nell'interno da ovest sud-ovest. Il mare è leggermente mosso, il sole sorgirà alle 7.37 e tramonterà alle 16.26. Ebbene, ci ho detto, possiamo dare un'occhiata ai giornali, cominciando oggi dalla prima pagina del resto delle Carlino, dove c'è il sunto delle notizie che vengono pubblicate all'interno. Vediamo subito quelle di Pesaro, quelle delle province di Pesaro-Urbino, dove c'è un richiamo, per quanto riguarda un articolo pubblicato sulla parte nazionale del quotidiano nazionale, ovvero del resto delle Carlino, non c'è nell'inserto pesarese, ma riguarda però Pesaro, perché riguarda Enrico Mattei, il grande manager che diede vita a Leni. I primi passi dell'Eni spunta il catino che ispirò Mattei. Ebbene, il giornale questa mattina racconta un episodio curioso che ispirò poi tutta la condotta economica di Enrico Mattei, una cosa banale, però molto significativa. Una volta, quando si era nei tempi di guerra, Mattei stesso vanta un passato di combattente nei confronti della liberazione dell'Italia, ebbene vide, mentre era rifugiato, mentre stava nascosto, per non farsi trovare dai tedeschi, in un casolare. Ebbene vide un gattino che cercava di avvicinarsi ad un catino pieno di cibo dove c'erano dei cani. Ovviamente i cani, appena videro questo piccolo pupattolo, gli diedero una zampata e lo allontanarono e quasi il gattino stette lì tramortito. Ma piano piano poi le cose cambiarono, perché quel gattino divenne il cane a sei zampe e trovò posto nel catino pieno di cibi. Allora, qual è il significato di questa annunciazione, diciamo così? Ebbene, i cani che lo avevano allontanato erano le sette sorelle, quelle società che avevano il monopolio della produzione e della commercializzazione dei petroli. Il gattino era ovviamente l'Eni, questa associazione in noce che stava per crescere ma che ancora non trovava posto. Poi piano piano il posto l'ha trovato quando è diventato un cane a sei zampe e ha dato del filo da torcere alle sette sorelle. Ebbene, questo fatto viene revocato oggi sui giornali perché, pensate, è stato ritrovato quel benedetto catino che ora viene annoverato tra i ricordi di Enrico Mattei. E qua lo vediamo nella fotografia. E addirittura lo vediamo nella pagina del quotidiano nazionale, ovviamente più ingrandita. Mattei, l'aneddoto del gattino, Leni era un cucciolo al pasto dei cani. Ritrovato il catino che ispirò la storia e qua lo vediamo qui. È un semplice catino, non è nulla di particolare. Però qui vediamo Pietro Curdo con il catino che ha ispirato il racconto di Mattei e sopra Rosangela Mattei nel museo di Mattelica. Quindi abbiamo anche questo ricordo, qui poi il volto sorridente di Enrico Mattei che purtroppo morì tragicamente e ancora in situazioni oscure. Vediamo le altre notizie, sempre quelle che riguardano Pesaro. Si parla di politica. Ieri c'è stato il congresso provinciale di Fratelli d'Italia. C'è stata un po' di maretta, poi ne parliamo. E intanto i residenti di Via Mazza protestano perché quelle cantiere che è stato installato per la ristrutturazione della biblioteca, della biblioteca oliveriana, sta occupando tutta la strada e sta creando molti disagi a coloro che vi abitano. A Dancona, giornata delle Marche, premi per le ricercatrici, picchio d'oro assegnato alla falconarese Francesca Rossi e poi un riconoscimento speciale del presidente a Sofia Scataglini. Per quanto riguarda la sanità, c'è il caso dell'ospedale di Torrette. Il direttore stiamo riorganizzando il nostro nosocomio. A Filottano torna la croce sulla cima della collina dei Monaci. Mentre ad Ascoli e a Fermo, si parla della Quintana, questo gioco medievale che ha tantissimi appassionati, porta Tufilla dopo l'incidente e riecco Gumbini presentati i cavalieri che valorizzeranno, che parteciperanno alla Quintana. Tribunale, maltrattava la madre, allontanato da casa e poi sempre per la cronaca condannato Santini per quanto riguarda la violenza privata all'AMAT. Celani, bene, ma io isolata. A San Benedetto, una mamma scrive ai carabinieri mia figlia è stata salvata grazie a voi. Per quanto riguarda Macerata, il calcio violento. Macerata osimana, tafferugli tra i tifosi, un poliziotto resta ferito. E poi a Civitanova, al Via, la raccolta doni per i bambini malati ricoverati al Salesi, una bellissima iniziativa in prossimità del Natale. Mentre a Porto Recanati non si ferma all'alte e semina il panico, ma poi viene bloccato. E allora, apriamo il giornale e diamo un'occhiata alla cronaca di Pesaro. Lo vediamo qui. Eccolo qua, a cominciare con il congresso di fratelli d'Italia. Ebbene, che cosa è accaduto durante il dibattito? È accaduto che c'è, è emerso ovviamente con tutta la sua forza, il dualismo tra Baiocchi e i fratelli Baldelli. Anzi, diciamo meglio, da Antonio Baldelli. Baiocchi fa infuriare i Baldelli, vince e poi chiede di fare pace. Ma per l'ala pergolese del partito non erano questi i patti. Il gruppo quindi se ne va in anticipo. Il presidente Acquaroli invece benedice la scelta degli iscritti per il consigliere pesarese. Ebbene, vediamo un attimo che cosa dice il giornale in merito a questo dibattito. Il congresso provinciale dei fratelli d'Italia ha confermato l'ascesa alla presidenza di Pesaro Urbino del consigliere regionale Nicola Baiocchi, candidato unico indicato alla guida del partito provinciale. Una scelta questa voluta dagli iscritti di Pesaro in netta crescita di tessere e desiderosi di avere il ruolo del capoluogo. Una scelta che la presenza del presidente regionale Francesco Acquaroli ha consacrato, evitando per quanto possibile di ravvivare l'urto tra il gruppo di Baiocchi e l'ala pergolese dei fratelli Baldelli che avrebbero preferito la conferma invece del commissario Giorgio Mocchi. Interpellato nei corridoi dell'hotel Flaminio Francesco Acquaroli ha sottolineato in politica i contrasti interni sono inevitabili. Lei lo sa molto meglio di me. Certi contrasti esistono da sempre, l'importante è non incidere sul ruolo del partito e sulla costruzione delle alleanze. E poi a contrasti raccontati, prima di tutto dal palco, dall'onorevole Antonio Baldelli e non, dice il resto del Carlino, dal fratello assessore regionale, ovvero Francesco, assessore alle infrastrutture e all'edilizia ospedaliera, che non ha nascosto la sua irritazione per la candidatura Baiocchi. Insomma, c'è stato un po' di maretta all'interno di Fratelli d'Italia, ma alla fine, poi come accade, tutto si è ricomposto, anche se poi le cose dentro, magari a livello sotterraneo, rimangono. Ma andiamo un'occhiata ora per vedere come è composto il nuovo coordinamento che è presieduto da Nicola Baiocchi. Ne fanno parte nove membri eletti dal Congresso. Da Pesaro, la segretaria Serena Boresta, e poi Nicola Valdinoci e Graziano Vaccaro. Da Fano, la segretaria Loretta Manocchi, oltre a Mosè Gaiardi e Francesco Cavalieri. Poi il referente di Vallefoglia, Carlo Nicolini, la segretaria di Urbino, Emanuela Pelliccia, la segretaria di Marotta Mondolfo, Alessandra Spadoni, e del coordinamento, fanno parte anche come membri di diritto Francesco Baldelli, il consigliere provinciale Domenico Carboni, il rappresentante in Assemblea Nazionale Angelo Bertoglio, il presidente di Azione Giovanni Giacomo Toccaceli. Questa è poi la composizione ora del direttivo. E il partito, come tutti gli altri, si appresta a ravvivare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative. Ed ora passiamo a Via Mazza e a quello che dicono i residenti molto arrabbiati per quanto riguarda l'invasione delle cantiere che ristruttura la biblioteca oliveriana. Siccome il terreno interno è molto friabile per il posizionamento di una grande gru che appunto correda le cantiere, si è scelta la strada e questo ovviamente ha occluso, inibito tutta la viabilità. Via Mazza, chiusa dalla gru. Sindaco, ma lei che fa? I residenti insorgono. I lavori di ristrutturazione della biblioteca oliveriana hanno imposto l'allestimento del cantiere in strada. Il tecnico all'interno ha detto il terreno è fragile, non è possibile insediarvi questa gru che pesa ovviamente molte tonnellate. L'intervento previsto per la ristrutturazione della oliveriana è per un costo di 3 milioni e 300 mila euro pagati dall'Unione Europea. Ha una durata stimata in 850 giorni continuativi. Quindi quella gru restarà lì per parecchio tempo. Una notizia di cronaca, paura passata per il tredicenne è caduto dalla palestra del liceo scientifico. sta meglio ora questo ragazzo. Dopo essere salito sul tetto della palestra del liceo scientifico caduto ieri è stato trasferito all'ospedale Salesi di Ancona per la degenza in seguito ad una compressione toracica che all'inizio aveva preoccupato non poco i medici. Per fortuna la forte fibra del ragazzo e le terapie adeguate hanno portato al superamento della fase più critica e quindi non è più in pericolo di vita. Giriamo la pagina e diamo un'occhiata all'evoluzione del delitto di Rita Talamelli la donna che è stata uccisa dal marito in seguito ad un difficile trascorso di malattia mentale il delitto di via Montefeltro. Ebbene è stata accolta dalla procura la richiesta della difesa Angelo Sfuggiti andrà agli arresti domiciliari e quindi una volta uscito dall'ospedale non andrà in prigione ma tornerà a casa ora attesa la decisione del GIP che dovrebbe confermare questa richiesta della procura l'uomo si trova attualmente ricoverato nel reparto di psichiatria di Pesaro Angelo Sfuggiti dunque potrebbe tornare a casa entro pochi giorni il settantenne di Fano che il 20 novembre scorso ha ucciso per strangolamento la moglie Rita Talamelli di 66 anni potrà avere gli arresti domiciliari il suo difensore l'avvocatessa Susi Santi ha chiesto la modifica della misura cautelare che prevedeva il carcere e la procura l'ha avallata ora sarà il GIP ad avere l'ultima parola ma ovviamente non ci sono degli elementi almeno così si crede che inducano Angelo Sfuggiti a replicare quello che ha fatto perché insomma era un rapporto strettamente personale con la moglie a proposito della casa di via Montefeltrio e di Montefeltro il giudice ha disposto il dissequestro e così i due figli potranno tornare a viverci e a breve vi arriverà il padre per rimanere agli arresti domiciliari torna a casa dopo 400 anni uno stipo bellissimo dei della Rovere è un mobile finemente intassiato che ornava Palazzo Ducale si tratta di un mobile che fa parte della collezione di Palazzo Ducale un prezioso mobile già esposto a camerino nella sala del re d'Inghilterra dove rimarrà è stato acquistato dalla Galleria Nazionale delle Marche grazie al Ministero della Cultura e della Direzione Generale dei Musei Italiani l'aveva ordinato Francesco Maria II ultimo Duca di Urbino tra il 1596 e il 1599 l'aveva fatto un ebanista molto molto noto maestro Giorgio Tedesco e l'integliatore di Avorio Giorgio Lupi perché poi questo mobile oltre al legno è anche intarsiato d'Avorio con i motivi della Rovere perché sono motivi che riguardano le querce quindi voglio dire è proprio un'allusione all'emblema di famiglia ebbene questo è quanto riguarda poi ci sono le altre notizie che riguardano la provincia la regione quello che pubblica oggi il resto del Carlino allora chiudiamo il giornale e apriamo invece il Corriere Adriatico dove sulla pagina di Fano si parla di piano regolatore eccolo qua vincoli nel piano regolatore a tutela delle vie del commercio è una precisazione che fa l'assessore il vicesindaco e assessore all'urbanistica Cristian Fanesi c'è una modifica sostanziale per quanto riguarda in modo particolare il centro storico non si farà più il piano particolareggiato del centro storico ma il nuovo strumento urbanistico contiene una norma una norma che praticamente rivoluziona le linee di indirizzo che vengono assunte per governare il sistema socio-economico del centro una volta c'era l'esodo l'esodo dal centro storico quando c'era il piano regolatore il vecchio piano particolareggiato del 1900 dunque quant'era la data 1979 ecco il vecchio piano particolareggiato data il 1979 e c'era la tendenza di tutta la gente che abitava nel centro storico di uscire dal centro storico per così trasformare le loro abitazioni in negozi e il centro storico così si stava spopolando ma ultimamente invece c'è stata un'inversione di tendenza la gente ritorna dalla periferia ad abitare il centro storico perché il centro storico è bello si sta bene è ben servito e quindi c'è questa tendenza e questo potrebbe far venire a meno i negozi ma senza negozi il centro storico non regge perché poi il centro storico attrae proprio per la sua funzione commerciale e del terziario ecco perché le nuove norme hanno messo dei vincoli su determinate vie di grande interesse commerciale come via Garibaldi via Cavour Corso Matteotti via Arco d'Augusto via Nolfi eccetera in modo che questi i negozi non vengano trasformati in abitazioni e poi c'è anche la possibilità di adibire il secondo piano delle abitazioni nei negozi cosa che prima non era possibile vincoli nel piano regolatore a tutela delle vie del commercio un articolo di cronaca minaccia due volte di gettarsi sotto il treno e un quarantenne esagitato dopo essersi allontanato dall'ospedale Santa Croce aveva fatto la stessa cosa poi dopo esser stato ricoverato nuovamente nell'ospedale di Ancona ebbene si è allontana e una volta arrivato da Ancona per due volte ha minacciato di farla finita e sono intervenuti in questo caso è intervenuta la polizia ferroviaria che dopo averlo calmato hanno consegnato l'uomo al personale della Croce Gialla che ha provveduto al trasporto del pronto soccorso dell'ospedale in Torrette dove lui poi un'altra volta è fuggito quindi un caso molto articolato molto esagitato vediamo che l'amministrazione comunale pone nuove telecamere in diverse parti della città in modo particolare nei luoghi più sensibili per quanto riguarda l'ordine pubblico nuove telecamere in piazza Ammiani nei pressi della stazione e nel centro commerciale di San Lazzaro sono dispositivi di carattere preventivo ma che aiutano molto anche in caso di indagini se vengono così rilevati degli illeciti e poi sono quelle telecamere tra virgolette intelligenti che riescono a leggere le targhe delle macchine e quindi riuscire a capire se sono assicurate se hanno fatto la revisione se la loro proprietà non è furtiva e quindi si può riuscire a risalire al proprietario legittimo se l'auto è rubata e poi c'è questa notizia curiosa Pesaro conquista il carnevale di Fano Rabachain sindaco per sei giorni pensate il sindaco del carnevale di Fano sarà la maschera di Pesaro il Rabachain qualcuno può dire non c'è più religione perché se Pesaro veramente ha il sindaco del carnevale di Fano vuol dire che siamo proprio stati colonizzati dal capoluogo in realtà questa è una provocazione il tema del disturbo del chiasso è un po' il tema del carnevale e probabilmente il Rabachain farà molto disturbo al carnevale di Fano a dirlo ai fanesi doc non ci crederebbe nessuno eppure è vero e proprio così lo attestano i documenti ufficiali il prossimo sindaco del carnevale di Fano sarà Rabachain la maschera di Pesaro appare scritto a chiare lettere nel progetto culturale e artistico presentato dall'ente carnevalesca all'amministrazione comunale per tutte le iniziative del 2024 ci sarà di che discutere e di che agitarsi passiamo a Mondolfo vediamo che c'è un articolo che riguarda le barriere architettoniche via in vista dell'anno giubilare Mondolfo Corinaldo e Casteleone sottoscrivono un accordo insieme alla diocesi un protocollo che ha l'intento di ridurre le barriere architettoniche fisiche ma anche quelle linguistiche o sensoriali per poter valorizzare al meglio il territorio in chiave turistica giriamo ancora la pagina e vediamo le altre notizie siamo a Senigallia i proprietari vanno a fare la spesa irruzione in casa dei ladri acrobati e veramente i furti in questo periodo sono in aumento emergenza furti senza fine il colpo sabato pomeriggio nella zona residenziale della Cesanella nuovo furto di pomeriggio mentre i proprietari erano andati a fare la spesa quindi poco tempo di abbandono della propria abitazione è successo sabato pomeriggio nel quartiere residenziale della Cesanella tra le 16 e le 17 quindi nemmeno molto tardi i ladri si sono arrampicati fino al balcone della casa presa di mira e poi hanno rotto una porta finestra per introdursi all'interno e poi hanno scorazzato in tutti gli ambienti è stato un colpo gemello a quello messo a segno due giorni prima le saline in via delle ginestre giovedì i ladri avevano raggiunto il balcone per poi entrare rompendo il vetro quindi probabilmente si tratta della stessa banda della stessa banda vediamo anche la pagina di Pesaro dove l'articolo di apertura saltando un po' le pagine regionali che parlano anche di covid mi raccomando fate attenzione anche alle vaccinazioni e vediamo che la pagina di Pesaro si occupa dell'emergenza rifiuti dopo sette anni si voterà un piano già vecchio mercoledì la convocazione dei sindaci dell'Ata e l'autorità d'ambito per l'approvazione definitiva del piano rifiuti con queste ultime con queste ultime stime le due scariche urbane si satureranno all'inizio del 2027 sembra che ci sia anche la discarica di Monteschiantello il centro storico si prepara a salutare il porta a porta si amplierà l'area della raccolta differenziata ma prima ci saranno le assemblee con i residenti e poi vediamo l'articolo che riguarda il tredicenne trasferito al Salesi resta in prognosi riservata però è vigile è cosciente il ragazzino è precipitato dal tetto della palestra della scuola per fortuna sembra che le cose si stiano risolvendo vediamo ancora le altre notizie fratelli d'Italia nuova era con Baiocchi presidente basta polemiche al lavoro per vincere ma di questo abbiamo già parlato quindi possiamo chiudere i giornali salutandovi e dandovi appuntamento a domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci a domani a domani a domani a domani a domani Grazie.